Buon pomeriggio a tutti, attendiamo qualche istante, vedo che state entrando nella room, a breve inizieremo. Ho controllato gli iscritti poco fa, eravamo sopra i 500, quindi vediamo che siamo già intorno ai 200 che state tutti entrando molto puntuali. Perfetto, intanto do il benvenuto a tutti a questo webinar investire in etf come selezionare i migliori che è il primo che teniamo a livello pubblico qui in consultic. Iniziamo già dalla prima slide e per chi non conoscesse consultic, consultic è la società che ha fondato la consulenza finanziaria indipendente in Italia. La società è nata nel 2001 per portare questa nuova figura professionale del Fionni Financial Planner americano, un professionista che non lavora per nessuna banca o rete e fa solo consulenza senza nessun conflitto di interessi. Come consultic noi non solo siamo una società di consulenza, quindi abbiamo un ufficio consulenza, un ufficio studi rivolto a famiglie, imprenditori, risparmiatori, ma abbiamo anche il focus di avviare nuovi professionisti sul territorio, quindi tutti coloro che hanno intenzione di svolgere una professione nuova, innovativa e soprattutto vincente in paesi finanziariamente più evoluti come gli Stati Uniti, l'Inghilterra o l'Australia, possono avere tutto il supporto da parte nostra per farlo in tempi brevi e sicuramente per avere successo nella propria carriera professionale. Noi siamo anche come consultic i fondatori dell'associazione di categoria NAFOP che ha la rappresentanza all'interno di OCF. OCF è il nuovo albo dei consulenti finanziari che è nato poco più di due anni fa, oggi in Italia quindi sono istituzionalizzate tre figure. La figura, quello che magari uno conosce di più per retaggio italiano, quello del consulente che lavora per banche reti, chiamato oggi consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e il consulente finanziario autonomo o indipendente come noi e la terza sezione che è dedicata alle società di consulenza finanziaria indipendente. Ovviamente in questo webinar, non l'ho detto prima, se avete delle domande potete lasciarle nella sezione domande e risposte o Q&A se avete Zoom in inglese risponderemo a tutte le vostre domande al termine del nostro intervento. Volevo fare una piccola introduzione prima di passare poi la parola a Giuseppe Romano che è qui con me ed è il direttore ufficio studi e ricerche di Consultic che entrerà proprio nel merito di quello che è la selezione degli ETF e soprattutto cosa sono questi strumenti per chi magari oggi ancora non li conosce molto bene. Perché parliamo di ETF? Perché ancora sono poco conosciuti tra gli investitori retail italiani. Gli ETF di per sé sono degli strumenti finanziari che vedremo più nel seguito che non remunerano il consulente che li propone o la rete distributiva. Questo cosa vuol dire? Che come strumento viene consigliato da chi non ha confetti di interesse in quanto un consulente che è legato a una banca o una rete non percepisce commissioni dal consigliare o vendere questi strumenti finanziari. Ho inserito qui due punti diciamo brevi per inquadrare quello che sono questi strumenti all'interno del mercato della consulente finanziaria. I consulenti finanziari come abbiamo detto oggi sono incentivati la maggior parte quindi coloro che lavorano per banche o reti sono incentivati a vendere prodotti. Da questi prodotti ricevono una commissione quindi sono incentivati ovviamente a proporre quegli strumenti che sono magari maggiormente remunerativi per per se stessi. Questi strumenti questi strumenti che vengono proposti vengono venduti hanno un generano commissioni solitamente anche se parliamo di prodotti che provengono dalle case di gestione della banca stessa oppure prodotti più rischiosi come possono essere i fondi azionari. Andiamo alla slide successiva vediamo che nel 2018 la commissione europea con uno studio che si ha voluto indagare effettivamente su chi sono gli investitori risparmiatori che comprano gli etf oggi in Europa. Hanno rilevato che gli etf in realtà sono accessibili solo agli investitori evoluti tramite investimenti online o robadvisor quindi non solamente è possibile ovviamente per tutti acquistare questa tipologia di strumento finanziario presso la propria banca e così via però sono accessibili maggiormente a coloro che gli hanno scoperti gli hanno studiati e probabilmente hanno sviluppato investimenti in proprio online o comunque tramite le piattaforme. Il caso studio che vi porto oggi per inquadrare quello che ovviamente sono sempre gli etf all'interno del panorama italiano è molto interessante vedere che nei paesi finanziariamente più evoluti come l'Inghilterra e l'Olanda dove a un certo punto è stato deciso di eliminare il pagamento delle commissioni nella consulenza finanziaria, parliamo del 2013-2014, c'è stato un incremento molto importante negli investimenti passivi come appunto gli etf. Questo grafico che vi ho inserito proviene da Morningstar che conoscerete tutti, è una società molto importante a livello internazionale finanziaria e il commento che ho lasciato volutamente in inglese indica proprio che le commissioni all'interno della consulenza finanziaria allineano gli interessi di chi? Del consulente e delle case di gestione o della banca, non del consulente con il cliente stesso. Come indica pure Morningstar sarebbe non solo in questi due paesi ma a livello europeo utile abolire il pagamento delle commissioni proprio per incentivare non solo migliorare la consulenza finanziaria ma incentivare strumenti di questo tipo come gli etf che possono beneficiare di cui possono beneficiare ovviamente gli investitori. Ultimo punto, qualcuno si chiederà ma abbiamo visto che comunque gli investitori più evoluti vanno a ricercare da soli gli etf però anche in Italia o comunque a livello europeo negli ultimi anni si è fatto qualche passo avanti soprattutto nell'esplicitazione dei costi quindi gli investitori italiani oggi ricevono quello che è un prospetto dettagliato sui costi dei loro investimenti e le commissioni. In realtà è interessante vedere che l'Inghilterra e l'Olanda che abbiamo detto dal 2013-2014 hanno deciso di abolire quello che è il pagamento delle commissioni prima di fare questo passo molto importante hanno provato a esplicitare i costi risparmiatori quindi in prima fase è stato detto vediamo qual è la risposta del mercato facendo presente quali sono i costi all'interno degli strumenti finanziari che acquistano gli investitori. Da una ricerca dell'FCA del 2007 ma anche a una ricerca dell'Olanda nel 2010 quindi antecedente 2013-2014 in realtà non si sono trovate prove coerenti che la divulgazione delle commissioni abbia portato a una sua diminuzione e inoltre gli investitori purtroppo non leggono a fondo il documento che gli viene fornito possiamo qui ovviamente parlare magari della complessità del documento magari del numero delle pagine che viene fornito all'investitore ma questo è per dire che l'Europa sta puntando proprio per migliorare qual è il mercato e le istituzioni piuttosto che far solo leva poi sulla crescita e la consapevolezza degli investitori. Andiamo con la slide successiva. A questo punto lascio la parola dopo questa breve introduzione del perché ovviamente parliamo di ETF e di consulenza finanziaria indipendente ovviamente che è una consulenza che non prevede la vendita quindi che si basa proprio sul consiglio verso il cliente quali sono le difficoltà che si riscontrano quando si seleziona un ETF. Lascio quindi la parola a Giuseppe Romano che proseguirà nell'intervento. Grazie Giulia. Allora una delle domande che si ci pone soprattutto quando bisogna selezionare gli ETF è quali sono le difficoltà che effettivamente si riscontrano nella relativa selezione. Allora proviamo a capire quale possono essere a livello di dividere in quattro macro tipologia di difficoltà che si possono riscontrare. Il primo problema è la numerosità degli strumenti. Gli ETF ad esempio in Europa e anche in Italia sono nati agli inizi degli anni 2000 ma oggi parliamo di circa a livello europeo di circa acquistabile da qualsiasi investitore italiano qualsiasi borsa europea parliamo di circa 2600 strumenti quindi tra ETF e TC ed ETN quindi sono una cifra importante ma sono una cifra sempre in crescita in un certo senso quindi numerosità e anche possiamo dire poi vediamo anche dopo la complessità degli strumenti degli ETF perché sono nate poi di varie tipologie. E poi un altro aspetto sono le differenze del benchmark. Il benchmark è il parametro di riferimento e l'indice di mercato che l'ETF tende a replicare. Allora ci sono delle problematiche. Quali possono essere nello scegliere? Perché io potrei avere degli ETF e ci sono tantissimi degli ETF similari ma ci possono essere degli ETF similari che investono ad esempio nello stesso mercato prendiamo mercato mondiale quindi Morgan Study World quindi investo nell'indice di riferimento il Morgan Study World è un indice di 1600 titoli circa 1600 titoli ed è un indice a capitalizzazione. Allora già lì se ci sono altri ETF che investono nell'indice mondiale allora devo andare a capire se è lo stesso indice se un indice a capitalizzazione potrebbe essere un indice di prezzo di peso uguale o ad esempio un indice ISG. vi faccio un esempio io potrei avere un ETF che investe nel mio Morgan Study World composto da 1600 titoli ma potrei avere anche un ETF che investe nel Morgan Study World SRI o ISG e c'è una differenza enorme perché il Morgan Study World ISG invece di averne 1600 di titoli purtroppo ne avrà 80-90 in meno mentre l'indice Morgan Study World SRI quindi che è una sottocategoria una variante diciamo dell'indice ISG invece di averne 1600 purtroppo ne ha 1000 cioè purtroppo in effetti fa una selezione molto più restrittiva dei parametri ISG e ne ha 300-350 e quindi in effetti io non posso andare a paragonare tre ETF con Morgan Study World SRI oppure il Morgan Study World Core che è molto simile al Morgan Study World ma ha dei titoli delle azioni in meno. Stesso sicuroso se noi prendiamo il mercato europeo se io devo investire un ETF europeo io per esempio potrei investire nell'ETF che replica l'Eurostox 50 oppure l'Eurostox 600 oppure il Morgan Study World SRI il Morgan Study World investe sempre nelle azioni europee ma c'è una differenza quindi anche di poca confrontabilità perché il Morgan Study World ha circa 230 titoli all'interno l'Eurostox 600 ne ha 600 e l'Eurostox 50 ovviamente ne ha 50. altro aspetto è il reperimento delle informazioni che vado a prendere sapete che oggi c'è il fact sheet quello che si chiama la scheda informativa e il KID il KID non è altro che sono gli elementi chiavi che infatti è una paginetta elementi chiavi di informazione che sono obbligatori da dare quindi ho il KID e la scheda informativa il KID non è altro una sintesi in un certo senso di una scheda informativa ma sono solo queste le informazioni sufficienti, necessarie? e no, in effetti ce ne sono altre perché l'ETF potrebbe fare il prestito titoli l'ETF potrebbe avere un collaterale perché magari è fatto attraverso uno strumento swap avrei bisogno di avere delle informazioni maggiori ad esempio la luminosità dei titoli in queste schede non ci sono questo tipo di dati quindi ad esempio lo spread bidask medio applicato quindi il denaro lettere alla liquidità dello strumento con queste informazioni che non trovo oppure certe informazioni parzialmente le posso trovare nei posti più disparati e quindi dovrei poi metterli insieme o addirittura non trovarli i parametri un altro aspetto sono i parametri per confrontare un ETF quali sono i parametri per confrontare un ETF? l'errore che si fa è quello di analizzare l'efficienza dell'ETF a pari di un fondo comune di investimento l'ETF come vedremo è molto simile è strutturalmente dal punto di vista della struttura come un fondo comune di investimento per certi aspetti però di fatti la valutazione della bontà dell'efficienza dell'ETF non è la stessa valutazione che si può fare per un fondo comune di investimento se è il fondo comune di investimento devo vedere la capacità devo vedere magari analizzerò solo il rischio analizzerò il rendimento rispetto alla categoria di riferimento analizzerò la capacità del fondo di battere il benchmark per l'ETF invece non devo valutare quando l'ETF batte il benchmark ossia quando l'ETF può battere un fondo ma devo capire se è un ETF in grado di poi di replicare l'indice di riferimento cioè il lavoro dell'ETF è proprio quello della replica dell'indice di riferimento anche nel mercato secondario che poi nel mercato di borsa quindi ci sono tutti un insieme di elementi per cui è uno strumento possiamo dire il ETF semplice da un punto di vista ma se poi vogliamo d'entraccia dal punto di vista professionale nel fare gli acquisti cioè prendere questi mattoncini perché noi stiamo parlando di mattoncini i ETF sono degli strumenti interessanti ma sono dei mattoncini però i mattoncini devono essere ben combinati combinati tra loro per poter fare la migliore un efficiente asset allocation a questo punto di vista quindi avere anche la strategia poi di asset allocation ben in testa quali sono le caratteristiche? adesso ci addentriamo un po' di più su quelle che sono le caratteristiche poi di un ETF l'ETF possiamo dire è un po' una via di mezzo tra un fondo e un'azione un ibrido tra un fondo e un'azione prima volta l'ETF è uno strumento che serve a replicare un indice di riferimento cioè fa gestione passiva cosa significa fare gestione passiva? significa non avere un gestore che cerca di attraverso delle strategie di mercato battere il mercato di riferimento comprando dei titoli che si discostano del mercato chi compra dei titoli e si discostano del mercato può fare meglio del mercato di riferimento può fare anche peggio l'ETF non ha questa pretese quindi replica all'indice di riferimento quindi il rischio dell'ETF è uguale al rischio dell'indice o del benchmark sottostante però è di fatti nella sua natura un fondo comune cioè ha patrimonio separato rispetto rispetto all'intermediario quindi nel caso in cui ci sia un problema dell'intermediario i soldi investiti nell'ETF al pari dei fondi comuni sono patrimonio separato dall'ETF questa è una cosa molto molto importante secondo aspetto è il concetto della diversificazione l'ETF replica un indice replicando un indice di riferimento riesce di fatti a poter investire direttamente in tutti i titoli che compongono l'indice avevamo fatto prima il riferimento all'indice Morgan Stanley World se io compro l'ETF che investe nell'indice Morgan Stanley World sto comprando 1600 con pesi differenziati ma 1600 titoli azionari poi ci sono i bassi costi l'ETF è uno strumento che ha bassi costi perché non ha un gestore non avendo un gestore e non dovendo dare delle commissioni di retrocessione cioè retrocedere commissioni ad un intermediario perché si compra direttamente in borsa ha dei costi che sono molto fair generalmente anche un basso turnover perché non essendoci il gestore attivo che fa compravendite particolari ci sono solo degli aggiustamenti che dipenderanno poi dall'andamento dell'indice cioè della manutenzione dell'indice sottostante ma è uguale a un'azione è uguale a un'azione perché? perché è quotato nel mercato nel mercato di borsa se voi andate su qualsiasi piattaforma o in banca è quotato nel mercato azionario italiano ad esempio l'etf quindi ho un mio ISIN c'è un book di negoziazione con il denaro lettera quindi il bid ask e io posso fare un'offerta e comprare con una qualsiasi azione e compro un etf quindi compro un etf così come una qualsiasi azione ha un proprio sistema di liquidità come vedremo con il market maker che si pone in domanda e in offerta per creare la relativa liquidità ma diciamo che il vero aspetto il vero valore aggiunto di un fondo di un etf rispetto al fondo comune di investimento è l'innovazione finanziaria che c'è dietro l'etf da effettivamente un'innovazione finanziaria molto molto importante mentre il fondo io l'investitore deve sottoscrivere le quote presso l'emittente del fondo del fondo quindi cosa succede o liquidare presso lo stesso emittente l'emittente se io costoscrivo 100.000 euro di quote di un fondo comune di investimento il gestore riceve i 100.000 euro investe nel mercato i miei 100.000 euro quindi genera anche dei costi di negoziazione nell'acquisto e anche di bidask e acquisto dei titoli all'interno quindi il patrimonio del fondo aumenta quindi il mio conferimento di 100.000 euro il gestore compra tramite l'emittente quindi non passando il borsa quindi la banca io devo avere un accordo cioè la banca deve avere un accordo di collocamento per il fondo a quel punto io do i miei soldi all'emittente tramite la banca che ha l'accordo di collocamento il gestore compra con i 100.000 euro i titoli e mi incrementa il patrimonio del fondo questo meccanismo viene assolutamente superato dagli etf perché viene superato? perché esiste un mercato primario e un mercato secondario dell'etf cerchiamo di capire meglio questa è la vera innovazione tecnologica dell'etf che permette di poter essere così sviluppato e avere dei costi così bassi ed essere così efficiente dal punto di vista anche della replica perché? proviamo a guardare questo schema di riferimento allora abbiamo detto l'etf è fatto da due mercati c'è un mercato primario che l'investitore retail chi compra gli etf in borsa non vedrà mai il mercato primario perché il mercato primario è fatto da un mercato di istituzionale quindi generalmente cosa succede? succede che io istituzionale quindi devo comprare grandi cifre comunque devo investire in quel tipo di etf a dei partecipanti autorizzati quindi ai soggetti che hanno creato diciamo per sintetizzare l'etf io gli porto direttamente posso dare al mercato primario ad esempio devo per 10 milioni di euro ho bisogno di etf per 10 milioni di euro quindi io ho due opportunità o al mercato primario che non è il mercato di borsa diciamo al creatore degli etf al partecipante autorizzato gli do 10 milioni di titoli precisi comprati di quell'indice di riferimento mettiamo che sia il fuzzimib che ha 40 titoli io gli do 10 milioni di euro in titoli precisamente composti dal stesso peso del paniere e lui mi restituisce i certificati che si chiamano etf rappresentativi di quei 10 milioni di titoli depositati nel mercato primario in alternativa io cosa posso fare come investitore istituzionale gli do 10 milioni di euro al netto di qualche commissione l'etf quindi il mercato primario compra i 10 milioni di titoli rappresentativi il paniere con i pesi dell'indice F eh fuzzimib abbiamo fatto l'esempio ok e mi rilascia i certificati sempre rappresentativi dell'etf io questi 10 milioni di euro di certificati rappresentativi dell'etf cosa faccio? vado nel mercato secondario e qual è il mercato secondario? il mercato di borsa ok e quindi io posso mettermi in denaro e lettera e quindi nel book della negoziazione e offrire e vendere e acquistare negoziare gli etf che non altro che sono dei certificati rappresentativi di che cosa? dei titoli detenuti fisicamente all'interno di una cassaforte virtuale che si chiama banca depositaria del mercato del mercato primario come un'azione se ci pensate se io ho un capitale sociale di una società e questa società per intero questo capitolo la la quota in borsa nel momento in cui nel mercato secondario il mercato di borsa io scambio delle azioni di quell'azienda non è che automaticamente c'è un aumento o una riduzione del capitale sociale dell'azienda ma scambiando delle azioni quindi certificati rappresentativi di un pezzetto del capitale sociale pensate il mercato primario degli etf come i titoli depositati fisicamente che sono lì che sono rappresentative dell'indice del mercato primario quando io scambio gli etf certificati nel mercato primario cosa succede? nulla succede nulla i titoli restano lì a differenza dei fondi comuni che c'è un aumento o una riduzione del patrimonio in gestione del fondo qui no il patrimonio in gestione dell'etf se non c'è un nuovo aumento nel mercato primario a qualsiasi scambio da mille euro diecimila euro centomila euro nel mercato secondario il titolo nel mercato romano rimangono fissi rimangono sempre gli stessi questo cosa significa? significa che io non devo stare come i fondi comuni in investimento a negoziare a comprare a vendere continuamente titoli all'interno del mercato primario generando costi di negoziazione e costi di denaro lettera per andare a rireplicare ma il mercato primario mi rimane fermo mi rimane fissa fino a quando qualcuno non mi porti dei titoli gli emetto dei nuovi certificati quindi un mercato secondario che è staccato da quello che è il deposito nella cassaforte detenuto dei titoli fisicamente detenuti questo è il concetto di fondo quindi questo mi permette di avere bassissimi costi di negoziazione e di transazione e di poter replicare perfettamente l'indice perché? perché l'indice che si chiama poi l'ETF ha un prezzo che si chiama NAV che è il prezzo di sera che viene dato e poi c'è il prezzo nel mercato secondario di quotazione quindi cosa avrò? avrò un valore fisso ok il NAV se i titoli sono fisicamente detenuti lì e rappresentano le stesse percentuali dell'indice Fuzzimib è naturale che il NAV dell'ETF e quindi del prezzo dell'ETF del mercato primario coincida sempre col valore dell'indice almeno dei costi di transazione ok? o per piccoli errori ma coincide sempre il certificato e quindi l'ETF che vado a negoziare nel mercato secondario non fa altro che replicare il valore dei titoli detenuti quindi ovviamente il prezzo dell'ETF tenderà ad essere simile al prezzo del NAV del valore del mercato primario perché questo? perché se non fosse così io potrei fare un'attività di arbitraggio cioè se il prezzo dell'ETF quotato è più basso del prezzo del NAV ok? io potrei comprare etf un istituzionale potrebbe comprare un operatore qualificato andrebbe a comprare etf sul mercato secondario gli andrebbe a consegnare nel mercato primario e prenderebbe il valore del NAV e quindi lucrerebbe un differenziale viceversa se il prezzo dell'ETF nel mercato secondario fosse più alto dell'altro tutti andrebbero sul mercato primario istituzionali a fare mettere altri certificati e a venderli sul mercato secondario fino a quando l'arbitraggio tenderebbe a chiudersi questo permette uno il NAV e quindi i titoli depositati che possono replicare al meglio l'indice nel mercato primario due che i prezzi degli etf cioè dei certificati rappresentativi del mercato primario possono avvicinarsi in maniera importante e quindi replicare il NAV cioè essere molto vicini a attaccare al NAV almeno dei costi di arbitraggio possibili per cui questi valori devono tendere a coincidere qual è l'evoluzione della gestione passiva gli etf fanno gestione di fatto gestione passiva a livello mondiale come vedete anche nel grafico negli ultimi dieci anni gli etf hanno una quota di mercato a livello mondiale già del 30% è una cifra importante e vedete come il grafico la parte verde è sempre in crescita addirittura negli Stati Uniti dove gli etf poi sono nati e dove è il mercato più evoluto negli ultimi periodi sono almeno un paio d'anni e comunque i flussi degli etf superano i flussi dei fondi degli altri fondi comuni di investimento quelli detti a gestione attiva poi c'è c'è sempre stato e c'è una diatriba tra i fondi a gestione passiva quello che è il concetto di investimento nella gestione passiva e nella gestione attiva il problema è che spesso la gestione attiva rende al netto dei costi rende meno un po' come dice anche Sharp rende meno dei fondi a gestione passiva quindi la tendenza del mercato si sta sempre di più spostando verso fondi a gestione passiva perché in media al netto dei costi i fondi a gestione passiva sono più performanti in media rispetto ai fondi a gestione attiva in Europa gli etf stanno crescendo siamo ormai come vedete anche nel grafico stanno in un impennato importante a 1.400 miliardi di euro il più importante è iShare negli Stati Uniti c'è Vanguard Vanguard è arrivato anche in Europa ovviamente è arrivato un po' più in ritardo rispetto aiShare ma comunque crescerà sempre di più e prenderà sempre più quote di mercato essendo poi il player più importante a livello mondiale a livello mondiale in Italia investimenti in etf sta crescendo abbiamo avuto in 2021 a crescere il 24% siamo a circa 120 miliardi 121 miliardi che rispetto ai 1.300 miliardi di risparmio gestito in Italia siamo ancora un 10% e diciamo in Italia a parte il retail diciamo che la maggior parte poi degli investimenti in etf paradossalmente non è fatto da retail ma è fatto proprio dagli istituzionali sulla proprietà sui soldi della proprietà degli istituzionali quindi nelle stesse banche sui propri soldi investono negli etf quando sono nati gli etf come vi ho detto la logica è avere il concetto dei titoli nel mercato primario fisicamente detenuti nella 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 banca depositaria infatti gli etf nascono a replica fisica ok la replica fisica può essere di due tipi quindi cosa significa io fisicamente detengo nel nel dossier titoli i titoli quindi nel mercato primario depositati i titoli che rappresentano l'indice di riferimento quindi quello è il modo migliore per poterli replicare la replica può essere completa quando detengo precisamente tutti i titoli quindi se ho un Dax 30 un Fuzzi Mib che ha 40 titoli un Aerostock 50 avrò una replica precisamente di tutti i titoli mentre la replica sono nate anche etf replica fisica ottimizzata perché eh prendiamo il caso del Morgan Stanley World che avevamo detto con 1600 titoli oppure l'SP 500 andare a replicare precisamente tutti i 1600 titoli eh può essere un po' più complicato costoso anche in termini di BIDASC e di mercati di riferimento mentre la replica ottimizzata aiuta diciamo a utilizzare un campione cioè una quantità inferiore di titoli però con una correlazione appuntista matematica tipo del 99% quindi una correlazione molto molto elevata per cui tenderanno a replicare in maniera magari non perfettamente ma comunque la replica è abbastanza efficiente poi lo vediamo una modalità di replica poi nel tempo in verità nel decennio precedente sono nati anche gli etf a replica sintetica che che un po' snaturano il concetto di etf che detieni fisicamente i titoli quindi della replica fisica e tra l'altro la replica sintetica si vede in due in due parti adesso poi la vediamo velocemente poi su un aspetto abbastanza tecnice è che comunque la replica sintetica è sempre meno utilizzata dobbiamo dire quindi c'è un ritorno importante c'è stato alla replica alla replica fisica perché è fatto con i derivati è fatto una replica con gli swap perché è nata la replica fisica la replica sintetica allora quando è tutto possibile fare dal punto di vista fisica perché ci sono degli asset in effetti che è crea ci sono certe difficoltà soprattutto ad esempio quelli sui tassi di interesse ci sono ad esempio sui tassi monetari ci sono delle difficoltà a poter fisicamente detenere certi tipologi di strumenti finanziari e quindi è più semplice poter più efficiente fare una replica con quella parte sintetica come vi dicevo prima la replica fisica significa detenere tutti i titoli all'interno cosa bisogna fare bisognerà solo fare un ribilanciamento periodico ma perché si fa il ribilanciamento dei titoli all'interno di un indice a replica fisica è perché se il mio Fuzzinib 40 esce un'azione e ne entra un altro o cambiano dei pesi relative perché magari è un indice a capitalizzazione quindi in funzione della capitalizzazione di mercato magari ogni trimestre c'è una variazione del peso dell'indice allora cosa deve fare l'ITF il mercato primario non il secondario il mercato primario deve intervenire facendo degli aggiustamenti comprando e vendendo degli strumenti per cui dei titoli per cui il portafoglio si adatta perfetto si riadatta perfettamente all'indice di riferimento ovviamente ci potrebbero essere degli strumenti degli indici che hanno ribilanciamenti più frequenti quindi questo potrebbe aumentare i costi di transazione per fare queste attività di ribilanciamento ma comunque in un fondo come un investimento che fa gestione attiva continuamente ci sono attività di movimentazione di portafoglio come dicevamo la replica fisica completa può avvenire su indici di ridotte dimensioni ovviamente indici di grandi dimensioni come il Morta Style Award e l'S&P 500 abbiamo bisogno di una replica fisica ottimizzata non compro tutti i 1600 titoli ma ne compro magari 800 per cui l'800 hanno una correlazione del 99,9% con l'indice di riferimento quindi riescono a fare quasi identicamente ai 1600 titoli e questo ha aiutato molto soprattutto l'investimento di indici importanti come questi poi vi avevo accennato alla replica sintetica la necessità a volte di avere una replica sintetica la replica sintetica viene utilizzata adesso effettivamente quando non si può fare una replica fisica perché il mercato eh non vuole repliche sintetiche su indici dove dove non ha senso fare repliche sintetiche e questa è una cosa importante questa cosa è venuta fuori soprattutto tra il 2008 e il 2011 del rifiuto totale alla fare replica sintetica su indici che poteva essere fatta replica fisica perché ci sono dentro dei derivati e il derivato cosa significa uno swap significa che ci può potenzialmente essere un rischio di controparte e da Lehman in poi eh avere rischi controparti di altri controparti bancari così come come ci sono stati problemi con Lehman ed anche altri oggettivamente nessuno questi rischi li vuole più ma di fatti cosa consiste può essere quella di tipo unfunded quindi quindi la replica non sintetica non finanziata cioè io eh do l'etf dà dei soldi a una controparte un altro intermediario e e l'intermediario gli dà un paniere sostitutivo cioè non gli dà i stessi titoli che replicano ok l'indice ma gli dà dei titoli che non è detto che replicano l'indice quindi che hanno la stessa performance dell'indice allora come si fa ad ottenere la stessa performance dell'indice in effetti cosa fa la controparte liquida la differenza cioè se il rendimento dell'etf quindi l'indice di riferimento è superiore al rendimento del basket dei titoli che gli sono stati dati gli sono stati dati al posto dei soldi allora quella differenza diventa un credito questo credito deve essere monetizzato deve essere pagato si chiama reset deve essere pagato all'etf e questi reset questi pagamenti si fanno mediamente adesso lo si fanno giornalmente quindi se io faccio un reset giornaliero significa che ogni giorno vado a chiudere eventuale quel pezzettino di credito potenziale perché il rendimento del paniere potrebbe essere anche superiore al rendimento dell'indice di riferimenti in quel caso non devo resettare nulla quindi il problema si pone quando quando il diventa un credito da parte del contraente dello swap per cui il rendimento dell'indice è superiore al rendimento del basket e quindi mi devo pagare la differenza e me la faccio pagare magari giornalmente questa è la tecnica al funded ripeto ma sono adesso sempre meno utilizzate solo in casi nei casi in cui non è possibile fare una replica fisica poi c'è l'altra tipologia che si chiama di tipo funded quindi finanziata cioè io do dei soldi do un cash alla controparte cioè l'etf che incassa i soldi dà il cash alla controparte e la controparte gli garantisce la replica attraverso il contratto swap e gli dice ok tutto il rendimento che farà l'indice io te lo pago tutto e quindi replica perfetta ok però cosa succede che l'etf ha bisogno di una garanzia si chiama collaterale collaterale sono dei titoli adesso questi titoli dovrebbero essere almeno il 100% del valore dell'indice in quel momento sotto il 90% non potrebbero essere perché le esposizioni derivate nei prodotti usits deve essere massimo del 10% però per le motivazioni che ci sono state dal 2008 al 2011 generalmente chi per caso fa una replica sintetica tipo funded deve dare un collaterale di un 110% mediamente quindi il collaterale deve essere ultra over collateralizzato in modo da garantire più di quello che mi devi dare quindi nel caso in cui l'emittente è dello swap è in adempiente io mi tengo il 110% invece del 100% questo è un po' il concetto il concetto di fondo la valutazione come si valuta un etf? un primo aspetto di valutazione degli etf sono gli indicatori di access e tracking error non fatevi spaventare dai numeri dalle formule quantitative quello che interessa di capire è il concetto l'etf cosa deve fare? deve essere bravo non a guadagnare di più e né a perdere di più dell'etf dell'indice deve fare come l'indice per fare come l'indice utilizziamo questi due parametri che è l'extra rendimento meglio l'extra return è R cosa significa? io vado a vedere in certi periodi di tempi settimanali giornalieri mensili qual è il rendimento che ha avuto l'etf e qual è il rendimento dell'indice e vado a fare la differenza allora io mi attendo che le differenze di rendimento poi faccio una media di queste differenze di rendimento siano piccole cioè l'extra rendimento dell'indice rispetto al benchmark dovrebbe tendere a zero non essere magari zero ma essere vicino essere molto contenute da questo punto di vista quindi il rendimento l'extra differenza di rendimento deve essere contenuto ma non solo quindi con la condizione necessaria ma non è sufficiente quindi dovrebbero essere contenuti ma dovrebbero essere anche piccoli gli scostamenti perché io potrei avere uno scostamento cioè una volta faccio zero per cento di differenza di rendimento una volta faccio due ok o più due o meno due però una volta potrei fare più uno o meno uno ok allora il concetto qual è? se io faccio più uno sempre più uno in più di rendimento di extra rendimento io avrò un certo andamento se io faccio zero o più due avrò uno scostamento maggiore questo scostamento è meno preferibile cioè il tracking error cioè la volatilità di questi scostamenti dovrebbero essere più contenuti dovrebbero essere contenuti al minimo e dunque concettualmente è più preferibile un etf che ti faccia sempre più o più uno o meno uno rispetto all'etf che uno ti faccia sempre o zero o meno due anche se in media fanno tutte e due uno chiaro chiaro questo è quindi la volatilità degli extra rendimenti quindi volatilità bassa degli extra rendimenti extra rendimenti contenuti questo è il primo concetto di fondo secondo fondamentale la liquidità ma noi quando parliamo di liquidità attenzione parliamo di liquidità nel mercato secondario perché non esiste un concetto di liquidità nel mercato primario io porto dei titoli consegno certificati mi riprendo titoli io porto liquidità compro i titoli rappresentativi dell'indice quindi di lì il problema non c'è la liquidità è un problema proprio del mercato di borsa di quotazione allora lì c'è la domanda offerta il book denaro lettera bidask come vogliamo chiamarlo e c'è un market maker che si chiama specialist per cui lui lui è obbligato a quotare è obbligato per dare liquidità in domanda e offerta le quantità previste dalla borsa e lo spread massimo che è definito dal contratto dell'etf poi ci sono altri market maker che intervengono e aiutano si chiamano liquidi di provider che aiutano a creare liquidità però una cosa fondamentale che bisogna sempre tenere presente negli etf questo è fondamentale questo lo vedete nelle crisi di mercato è che la liquidità di un etf dipende dalla liquidità del sottostante fondamentale cioè se io il sottostante è poco liquido non so ci sono delle fasi di mercato in cui le obbligazioni corporate i book vengono si scompaiono in un certo senso avete visto in quelle fasi di crisi di mercato io non posso pensare che se il book si diluisce e quindi gli spread nel book delle obbligazioni rappresentative di quel mercato di investimento si riduce l'etf c'è un bidask stretto il bidask dipende dalla liquidità dei titoli sottostanti mediamente un etf di di un emerging market che investe in paesi emergenti ha ha una liquidità più bassa di un etf che investe nell'S&P 500 perché i titoli sono molto molto più liquidi queste sono queste sono cose importanti da da capire l'etf gli emittenti degli etf con masse più grandi grandi in media hanno anche liquidità maggiore questo avviene per qualsiasi perché i titoli più grossi spesso sono quelli anche più liquidi ma non solo questo ma anche gli etf più grossi hanno più liquidità che sono più soggetti che fanno compravendita qui vedete gli spread medi eh di di tutti gli etf quindi una media complessiva quotati su borsa italiana hanno fatto una elaborazione vedete nel nel periodo del covid qui lo spread medio è schizzato a più a 60 base point mediamente abbiamo 10 base point però vedete nelle fasi di mercato si allargano gli spread ma perché il sottostante è meno liquido e quindi anche gli etf diventano eh meno liquidi come abbiamo detto prima gli etf hanno dei costi più bassi dei fondi c'è niente da fare i motivi è prima di tutto strutturale il fondo deve prima di tutto comprare e vendere comprare e vendere agli ingressi e le uscite delle sottoscrizioni e dismissioni in più fa cerca di fare gestione attiva l'etf no l'etf scambia un certificato rimane quello ma il sottostante rimane sempre lo stesso e non ha i costi di collocamento e non ha i costi di un gestore attivo quindi ci sono un insieme di motivi per cui l'etf cosa fa costa come vedete qua mediamente per un etf azionale costa l'ottanta per cento in meno di un fondo a gestione attiva gli obbligazionari vedete il dato i monetari sono un pochino eh questi valori i fondi costano molto meno eh negli Stati Uniti eh in Italia abbiamo abbiamo fondi che costano molto molto di più man mano che aumenta la cultura finanziaria poi sapete che questo poi tenderà a eh migliorare allora eh cosa facciamo noi? abbiamo costruito già dal 2004 e pubblichiamo poi plus 24 sulle 24 ore quindi ormai da 18 anni il rating degli etf che va da 1 a 5 stelle eh perché un rating degli etf? il rating degli etf ha una logica come vi dicevo il nostro rating degli etf è completamente diversa dal rating di un fondo come un investimento perché l'etf deve fare bene il suo lavoro il suo lavoro è essere un bravo replicante allora e costare poco allora il concetto di fondo dunque del nostro rating eh potete leggere in questo modo che replica bene allora un 5 stelle con sul TIC significa che replica bene e costa poco ok? costa poco poi rispetto a a quello che che mediamente dovrebbe costare o costano pure gli altri quindi replica bene a prescindere dagli altri quindi non è un parametro di riferimento rispetto agli altri se tutti replicano male prenderanno tutti una stella chiaro quindi non è un concetto relativo per cui almeno qualcuno deve prendere le 5 stelle assolutamente no prendi 5 stelle e se stai all'interno di questi parametri quali parametri? sono questi devi avere l' excess return cioè lo spread etf indice sarebbe l' excess return abbiamo detto lo scostamento dei rendimenti la media dei rendimenti gli scostamenti dei rendimenti tra indice e etf deve essere sotto lo 0,5 annuale secondo la nostra esperienza la volatilità di questi extra rendimenti deve essere contenuto tra il 2 e il 2,5% annuale deve essere liquido cioè deve avere uno spread bidasker ridotto anche lì abbiamo dei parametri in funzione del mercato e del sottostante di riferimento molto complessi e poi deve avere un costo contenuto rispetto sempre qui anche insieme ad altri parametri altri elementi che noi utilizziamo per la relativa selezione quali sono? e la numerosità il benchmark come vi dicevo prima allora gli etf sono strumenti replicanti sono strumenti che investono in indici e gli indici hanno diversificazione ci sono indici che possono avere 200 titoli e indici che ne possono avere 800 quindi prima di tutto capire l'indice di riferimento il benchmark dove stanno investendo la numerosità eh relativa concentrazione anche dal punto di vista settoriale ci sono degli indici che sono molto pesati essendo indici spesso di capitalizzazione pesati su certi settori o mercati eh e anche i fondamentali cioè i costituenti degli indici quello che abbiamo andiamo pensate soprattutto poi a quelli che sono gli etf di natura obbligazionaria in un certo senso le duration lo year to maturity eh il rating dei singoli eh delle singoli bond eh all'interno altri altri fattori che andiamo a considerare il patrimonio ovviamente più più grandi sono i patrimoni più sicuramente tendono a essere un solo liquido ma più andiamo a privilegiarli il controvalore medio di scambio giornaliero anche questo è un indicatore fondamentale di liquidità del mercato e la data di lancio di lancio eh sono altri elementi che noi andiamo a tenere in eh in considerazione altre cose sugli etf che bisogna eh valutare quando si va a fare una scelta eh sono eh gli etf possono essere ad accumulazione e distribuzione cioè la cedola il dividendo lo capitalizzo e quindi vende ad accumulazione oppure lo distribuisco cioè lo stacco come una sensazione quindi lo do al all'investitore altro aspetto in considerazione è la copertura dal rischio eh dal rischio cambio eh perché potrei avere un etf coperto dal rischio cambio o non coperto rischio piano ovviamente la copertura del rischio cambio ha un costo che viene aggiunto al costo che fa parte poi del costo del eh dell'etf quindi potrei avere un etf ad accumulazione con rischio cambio quindi eh non coperto oppure un etf a distribuzione coperto chiaro eh ultimo aspetto importante e eh cosa si trova eh in giro e ve l'abbiamo sintetizzato poi in questa in questa scheda eh noi abbiamo la nostra pfionli platform che adesso ci entreremo la vedremo un attimo solo sulla parte relativa alle shortlist degli etf vi farò vedere un attimo il tool delle shortlist eh degli etf la pfionli platform enorme ma vedremo solo quell'aspetto lì eh dove dentro è presente la la migliore selezione degli etf eh abbiamo delle nostre categorie e ci sarà la migliore selezione degli etf cosa che normalmente non si trova in internet stesso discorso per il rating trovate dei rating sugli etf eh pubblici diciamo così ehm in giro sì ma non trovate mh non trovate un rating sugli etf assoluto per categoria non per categoria cosa significa? che è quello che vi ho spiegato prima se io ho eh gli etf Europa lo metti insieme agli azioni ai fondi comuni azionari Europa e il migliore eh ne prenderanno cinque stelle tutti quelli che hanno una performance superiore alla media ok allora avrò un rating ma avrò un rating a prescindere dalla capacità di replica ma solo perché l'ho messo insieme ad un altro paniere di di fondi che sono più o meno omogenei più o meno che poi hanno delle differenze e per caso anche possono andare meglio o peggio di quel fondo con un investimento ma e quindi non c'è un confronto verso il benchmark di riferimento ma è un confronto verso una media di di fondi di categoria e questi etf vengono inseriti in questa media di fondi di categoria spesso quindi eh e non è rilevante dal punto di vista dell'efficienza dell'etf i dati sul spread biddask noi lo riportiamo lo vedrete in giro non si trova nelle schede informative nel kid si trovano questo tipo di informazione in giro potete trovare ad esempio le informazioni sulla tipologia di benchmark sul numero dei titoli componenti del benchmark i dati fondamentali del benchmark sono dati che trovate in giro ovunque quindi in posti più dispersi e quindi bisogna poi aggregarli e mettere insieme in più non trovate per ogni etf diciamo dei commenti sul sulla possibilità o la capacità di questo etf o l'utilità di queste di queste etf per poterli inserire all'interno di un asset e che cosa che poi facciamo nella nostra eh lista nella nostra eh shortlist che adesso vi farò andare andremo a eh a vederla bene bene andiamo alla nostra eh shortlist su Fiori Platform shortlist etf ok allora eh prima di tutto vi trovate di fondo dei pulsanti qui in alto eh nella nostra analisi di selezione qui è una shortlist non ci sono all'interno tutti gli etf proprio perché selezioniamo gli etf per tipologia che possono essere già pronti e utili con le informazioni necessarie per poterli mettere nella nella propria asset allocation prima di tutto abbiamo fatto cinque macro categorie quelle dell'azionario l'obbligazionario bilanciato tf bilanciati vediamo eh cripto asset quindi criptovalute investi criptovalute e quelle delle materie prime partiamo dall'azionario vedete queste classificazioni in cui le abbiamo inserite sono delle classificazioni puramente nostre queste non esistono una classificazione del genere non ci sono tutti gli etf c'è solo una lista da noi selezionata dall'ufficio studio come etf abbiamo fatto queste categorizzazioni veduto un globale all country quindi tutti i paesi oppure core globali settoriali come vedete abbiamo inserito i settori che hanno che secondo noi sono sono quelli più interessanti da andare a prendere oppure eh secondo l'offerta di mercato quindi mi interessa il settore oggi del dell'energy ok quindi ho già l'idea che voglio investire nell'energy vado a vedere i migliori dell'energy a livello globale no a livello di una regionale geografica oppure sono i globali di stile ad esempio c'è l'ISG i value gli alt dividend i momentum i multifactor quindi ce ne sono di diversi tipi i globali sui temi abbiamo fatto ad esempio il gaming il gli etf eh in nord america quindi di un'area specializzata nord america eh diversificato usa e nord america ad esempio settoriali del nord america o nord america addirittura di stile eh stesso discorso lo abbiamo fatto sul mercato eh europeo e sul mercato asiatico e sul mercato emergente quindi dividendo dal mercato asiatico quello che è un mercato eh emergente eh se vado su un globale lo seleziona ad esempio quindi un etf io ho la lista di tutti gli etf che noi abbiamo inserito all'interno di questa categoria in più avrò altri filtri eh avrò il filtro è eh di copertura dal cambio non copertura cambio quindi coperto dal cambio non coperto dal cambio ad accumulazione quindi che investe i dividendi oppure a distribuzione dei dividendi quindi se volessi se volessi solo edget e oppure ed accumulazione quindi il sistema mi seleziona solo solo questi qua ad ogni modo nel momento in cui ci vado ci vado su clicco vedete ho ho tutte le mie informazioni tutte raccolte in una pagina per cui avrò eh l'animazione dell'indice l'aisin eh la performance il rating consultic le spese complessive il patrimonio il numero dei titoli dell'indice direttamente lo spread che vi dicevo prima il controvalore medio scambiato giornaliero la tipologia di Berge ma questo è un capitalizzazione dove è quotato la modalità di replica il commento ai fini di inserimento all'interno dell'assetto location e qui c'è il click poi anche al fact sheet quindi alla scheda eh informativa e abbiamo vedete eh l'apertura sulla scheda eh informativa allora qui si va direttamente poi alla scheda del relativo 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 titolo e altre cose importanti se ad esempio vado sull'obbligazionario vedete anche qui la logica è eh tutta della classificazione come la nostra che abbiamo fatta vedete prima di tutto partiamo da quello che è il governativo globale è importante sulle informazioni ad esempio della duration media la duration tipologia di duration il corporate globale anche qui eh ad esempio c'è anche il corporate ISG quello variabile quello sulla duration il crossover la diversifica quello diversificato globale diversificato zona euro la yield l'inflazione globale inflazione USA inflazione euro paesi emergenti i yield e le convertible come potete potete vedere se ne seleziono seleziono una importante che sono questi dati anche qui ci sono i sottofiltri per cui andiamo sul sul coperto o ad accumulazione la distribuzione vedete le varie tipologie di informazioni importante vi faccio notare questo sull'obbligazionario un dato fondamentale che non trovate eh da nessuna parte spesso ed è questo questo il rendimento eh il due maturity il rendimento a scadenza cioè se io comprassi in questo momento tutti i titoli del dell'etf eh quindi tutte le obbligazioni da ora in poi avrei un rendimento e li portassi a scadenza avrei un rendimento dell'1,7 per cento con la relativa duration dell'etf il patrimonio il commento il link al fact sheet quindi alla scheda informativa il numero dei titoli presenti lo spread la modalità di replica e poi qui c'è il link che va vado direttamente alla parte della scheda interattiva eh vi faccio vedere anche ad esempio quelle delle crypto asset se seleziono ad esempio un bitcoin questi qua ovviamente sono degli etc eh sono sono degli etc perché eh essendo eh bitcoin non si può fare tramite etf ma si fa tramite tramite una nota anche il proprio etc eh vedete ad esempio qui ce ne sono due qui ho le relative spese quindi il costo il costo dell'etf io già qui posso andare poi a verificare anche questo posso verificare il benchmark di riferimento tipologia di replica questa è una replica fisica ad esempio del eh del bitcoin con i controvalori medi vediamo che questo è molto più liquido ok ha uno spread leggermente più alto però un un costo anno molto più basso rispetto a quello precedente questo punto di vista ad esempio altro aspetto sono le materie prime che anche queste si fanno con eh gli etc se io prendo ad esempio un basket eh diversificato anche qui mi troverò vari tipi ad esempio eh questi questi sono degli etc che vengono molto inseriti ad essere nelle asset allocation perché perché mi permettono di poter comprare un certo paniere di materie prime ad esempio questo indice mi compra eh quasi tutte le materie prime che ci sono materie prime intese sia quelle che quelle agricole sei quelle industriali e eh di ora ad esempio in questo caso ne ha molto poco però dentro c'è 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 il petrolio ci sta il platino ci ci sono c'è il frumento c'è eh c'è il mais e qui poi all'interno eh il fax ci sta in mente nella nostra scheda avete poi tutto anche eh le informazioni tipo analitiche come vedete questa replica è una replica sintetica non è una replica eh eh fisica eh direttamente quindi non viene comprata fisicamente la materia prima nel mercato primario ma viene fatto attraverso il concetto di replica sintetica funded unfunded ci siamo detti e quindi attraverso uno swap a differenza ad esempio di quello del bitcoin che viene fatto eh fatto diversamente bene io direi sì eh magari eh ci sono domande magari possiamo andare sulle domande questo cliccando si va poi sulla scheda interattiva e quindi c'è anche associato una relativa scheda eh di tipo interattiva sto leggendo le le varie domande e cercando magari di rispondere alcune direttamente allora vorrei chiedere eh chiederti Giuseppe per gli etf replica fisica completa a cosa è dovuto l'extra rendimento? Allora per quelli a replica fisica sintetica l'extra rendimento ce ne dovrebbe essere poco ma è dovuto al prestito titoli eh se voi prendete quelli là di iShares oppure anche Vanguard e che sono naturalmente replica replica fisica è andato a verificare che eh loro prestano una certa percentuale poi nel nel loro sito internet c'è anche scritto questa cosa in verità e la posizione in questo momento prestano prestano i titoli tipo anche il 5, 10, 20 per cento dei titoli facendosi dare un collaterale eh dando a prestito questi titoli ad altri altri soggetti ripeto con garanzie belle belle solide e prendendo un tasso di interesse. Questo tasso di interesse che viene preso ok va a beneficio dell'etf va a ridurre i costi e quindi è possibile in questo caso che in che addirittura l'etf faccia un pochino meglio del eh dell'indice sottostante. Tanto è vero che poi hanno dei costi anche molto ridotti spesso sono sono etf ad esempio sull'SP500 che hanno che hanno qualche best point 5 best point di costi di gestione. quindi direi molto molto basso ma la risposta è dovuto al prestito titoli. In quale sabato del mese viene pubblicato il rating sul plus? Allora una volta viene pubblicato ogni settimana. Man mano che eh hanno ridotto negli anni le pagine del plus che man mano sono state state ridotte hanno tagliato diciamo così adesso una volta a settimana. Dovrebbe essere eh se non sbaglio perché abbiamo varie rubriche ogni settimana esce una rubrica diversa per esempio la terza del mese. Dovrebbe essere forse la terza del mese però non vorrei sbagliare. Comunque sulla rassegna stampa all'interno del nostro sito si possono vedere i rating diciamo usciti precedentemente. Puoi spiegare la differenza? Attenzione anche lì è una selezione eh però eh sul plus perché spesso ci arrivano dagli investitori ah perché non c'è questo etf perché non c'è l'altro. Quella selezione che c'è su plus prima li mettevamo tutti poi man mano sono pure cresciuti poi hanno tagliato le pagine. Non è una selezione che abbiamo fatto nostra strategica attenzione non è nemmeno la nostra short list è la selezione gli etf che ci chiede il plus di mettere. Lui ci dice ok voglio questi e noi gli diamo in questa pagina ce ne sono x e noi gli diamo l'informazione attiva gli etf che lui ci chiede di mettere. Chiaro questa è una cosa che ci tenivo a precisare. Puoi spiegare la differenza dello stesso etf acquistabile su varie borse? Allora lì lì questo è uno degli aspetti della liquidità della liquidità del secondario eh ci posso essere lo stesso etf comprato su borse diverse io potrei avere quella italiana poi ho quella svizzera o quella tedesca o quella francese avere lo stesso e che posso accedere. Perché i prezzi sono diversi perché il market maker magari la liquidità su quel mercato lì è migliore o peggiore rispetto alla mia e quindi ci possono essere dei piccoli disallineamenti. Direi piccoli disallineamenti perché in caso di grossi disallineamenti interviene sempre il concetto dell'arbitraggio cioè paradossalmente se lo stesso etf che è identico io sul mercato italiano ce l'ho a 10 euro lì paradossalmente lo trovassi a 11 lo compra a 11 lo compra a 10 lo rivado a rivendere a 11. Questo arbitraggio fa sì che comunque se qui lo trovo a 10 lo posso trovare 9,98 e quindi la differenza può essere minima almeno nei costi di transazione o di bidask in un certo senso. Allora stanno arrivando diverse domande e questa magari rispondo io. Chiedono se l'accesso alla Fionli platform è possibile solo per consulenti finanziari indipendenti oppure previo pagamento accessibile anche ai piccoli investitori. Allora la piattaforma è modulabile in base a poi gli interessi e le esigenze della persona che accede quindi abbiamo diciamo diverse modalità poi anche successivamente possiamo sentirci per studiare quello che magari può essere più l'interesse e l'argomento. Abbiamo visto la parte degli etf oggi poi faremo sicuramente altri webinar ma comunque ci sono anche portafogli e selezioni di altri strumenti quindi sicuramente può essere accessibile anche da chi non è già ovviamente iscritto all'album investitore. Una domanda, un parere su fondi multistrategi tipo Vanguard, live strategy? Allora noi li abbiamo messi, se vede le categorie che abbiamo messo, le cinque categorie, c'erano i bilanciati, diciamo che nella categoria di bilanciati trovavate anche i lifestyle. Sono sicuramente uno strumento interessante perché comunque danno una combinazione, non hanno tutto il mercato mondiale dentro. Oggettivamente però diciamo che danno, perché ha anche pochi denari e non vuole stare lì a farsi le proprie combinazioni degli etf, hanno dei limiti, ce l'hanno però hanno anche il pregio che diciamo che in un unico acquisto riesci a comprare un giardinetto comunque di etf che ha una sua diversificazione. E' un costo comunque contenuto perché non è un costo doppio, cioè non è un etf di etf, cioè praticamente se è un etf di etf ma non fanno pagare il costo doppio perché il costo che viene pagato è unico. Non c'è una duplicazione di costo tra l'etf e la scatola. Ovviamente bisogna sempre, è molto diversificato, dipende dalla percentuale di azionario e obbligazionario, ma non ha tutto il mercato mondiale dietro, comunque non ha magari dei settori che potrebbero essere più interessanti rispetto ad altri. Buonasera, andando su etf troppo settoriali, ad esempio specifici temi o stili, non si crede che si snaturi un po' il principio dell'etf che nasce per replicare dei mercati? Allora, sì, in un certo senso, nel senso che gli etf ormai nascono su tutti, abbiamo, secondo me la cosa che più teoricamente va a snaturare l'etf sono gli etf attivi. Cioè, gli etf, gli smart beta, tanto per capirci, l'etf che va a replicare un indice attivo, che fa una strategia attiva. Quindi, è vero che l'etf è sempre un replicante, ma la strategia sottostante l'indice è una strategia attiva, cioè vuole battere il mercato di riferimento. Cioè, prendo uno che vuole value particolare, che fa una strategia che vuole battere l'SP500, io replico quell'indice che cerca di battere la strategia dell'SP500. Questo, secondo me, è l'estimizzazione della disnaturare, in un certo senso, o in un certo senso, l'etf. Però, resta nell'ambito, diciamo, di quel tipo di applicazione, bisogna stare attenti ai settoriali, cioè quelli molto settorializzati, per un semplice motivo che il rischio, è vero che sono sempre dei replicanti, ma l'efficienza non significa che sia efficace lo strumento, perché spesso poi i settoriali sono meno diversificati e se si sbaglia poi i settori di riferimento, ci possono essere anche perdite importanti, quindi bisogna stare un attimo più attento sui settoriali in generale. È conveniente comprare con prezzi al limite, sfruttando l'analisi tecnica? C'è chi fa trading, diciamo, in un certo senso, utilizza gli etf per fare trading, in un certo senso. Non è il nostro lavoro, noi cerchiamo di creare asset allocation, sia strategica che tattica, più di fare la parte di trading. Utilizzare l'analisi tecnica, combinata all'analisi fondamentale, per decidere quando entrare, oppure delle fasi di capire, delle fasi di mercato, dove è meglio incrementarlo e rigerire, è assolutamente semplice. Cioè l'analisi tecnica può essere uno strumento che, soprattutto nel breve, può andare un po' a supporto dell'analisi fondamentale, vediamo anche questa fase qua, di cui sulla parte macroeconomica ci sono delle grandi ombre, ovviamente magari un grafico tecnico mi aiuta magari a fare delle scelte, mi può comunque essere l'aiuto, una bussola per fare delle scelte. Come mai non avete messo il rating per gli etf di criptovalute? Per la mancanza di dati disponibili? Sì, c'è mancanza di dati disponibili, ma sotto il track record, la lunghezza temporale, la serie storica, ancora breve. Nel caso in cui l'etf prevede l'accumulo dei dividendi e non la distribuzione, cosa viene fatto tecnicamente dal gestore del fondo per mantenere coerente il prezzo e cosa comporta per il valore del titolo? Niente, viene fatta la stessa cosa che viene fatta per un fondo con un investimento, cioè si incassa il mercato primario, incassa la cedola, a quel punto vengono comprati i titoli replicanti nel mercato primario. Allora, qui stanno arrivando continuamente domande, ne seleziono le ultime due, poi le altre comunque risponderemo anche domani privatamente. Ci chiedono anche sugli etc, però ne approfondiremo magari in un altro webinar. Come sono costruiti gli etf con moltiplicatori o short? Sì, anche lì gli etf sono una forma di essere un po' naturali da questo punto di vista. Bisogna stare attenti perché poi la replica due o tre volte, quando replica due o tre volte, non è detto che la replica, se io vado a moltiplicare la performance dell'indice, coincida poi con la performance dell'etf perché c'è un reset, generalmente giornaliero. Quindi a fine giornata riparto da zero e quindi se il mio indice è il double short, tanto per capirci, prendo l'SPMib, faccio e prendo il double short sull'SPMib, se in un giorno la performance dell'indice coincide con la doppia performance inversa dell'indice. Però in un arco temporale più lungo questo non coincide perché ogni giorno, con il ribasamento giornaliero, questo poi mi porta alla sfasatura. Ogni quanto aggiornate il database, mandate un alert se un etf esce o viene sostituito da un altro? Allora, le liste vengono aggiornate ogni tre mesi perché è il tempo minimo per dare delle valutazioni, mentre quei dati che avete visto, tutti quei dati vengono aggiornati ogni giorno. Quindi ogni giorno c'è l'aggiornamento dei dati, dello spread BDASC, Cioè del controvalore medio investito, della performance e tutti gli altri indicatori. Mentre l'in e out dalle liste è trimestrale. Ok, qua chiedono se sarà disponibile la registrazione. Sì, lo caricheremo nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube. Rimando tutte le domande, magari se volete inviare una mail, come vedete qui a info.consultic.com o le nostre dirette, giulia.armellini e g.romano. Vi ringrazio, siete ancora tantissimi collegati oltre orario e ci vediamo ai prossimi webinar. Saluti!